Un gravissimo lutto ha colpito la grande famiglia del team Pasturo. Un dolore indicibile accompagna il ricordo di Gabriele Orlandi a Rigoni, scomparso in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì sul rettilineo di Balisio in Valsassina. La vittima, 38 anni, viaggiava in sella alla sua motocicletta insieme al nipote 12enne e li trasportato in codice rosso all'ospedale di Bergamo. Fatale lo scontro con una vettura e troppo gravi le ferite riportate, nonostante i disperati tentativi di rianimazione durati a lungo. Orlandi a Rigoni è stato tra i fondatori dell'associazione valsassinese cui si deve l'organizzazione della nota a corso in montagna ZACAP. Fino all'anno scorso Gabriele aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente, ricorda il leader del team Pasturo Alberto Zaccagni, ed era anche un forte atleta insieme alla moglie Deborah, poi la decisione di lasciare l'incarico per dedicarsi al soccorso alpino. Purtroppo, conclude Zaccagni, la vita ha disposto diversamente e i suoi progetti sono rimasti nel cassetto. Ci mancheranno il suo sorriso ed entusiasmo che erano contagiosi. Non mancava mai di fermarsi ad incitare gli atleti quando facevamo le salite sotto casa sua. Ora saremo orfani di un grande tifoso. Il nostro impegno sarà anche maggiore. Glielo dobbiamo per tutto quello che ha fatto per noi e per quello che avrebbe voluto ancora fare. Di fronte alla gravità di quanto accaduto, esprimo la vicinanza mia personale di tutta l'amministrazione alla moglie e alla famiglia di Gabriele, il commento del sindaco di Pasturo Guido Agostoni, un giovane che conosco molto bene, stimato ed apprezzato anche per il suo impegno a favore della comunità, sia nel campo sportivo che in altri settori.